Regala alla tua azienda un sito capace di comunicare. Chiamaci! Il terremoto in Cina è un disastro senza precedenti. Il terremoto del Sichuan è stato il più distruttivo in Cina dal 1949. Lo ha detto il premier cinese lasciando intendere che le dimensioni delle devastazioni provocate dal terremoto di lunedì scorso vanno ben oltre i bilanci già catastrofici fin qui forniti. L'ultimo diffuso ieri parlava di almeno 50.000 morti, un notevole balzo in avanti rispetto alla valutazione precedente di 15.000. Purtroppo sono sempre minori le speranze di trovare ancora in vita le migliaia di persone che sono date ancora per disperse. Il numero viene indicato tra i 30.000 ed i 60.000 dispersi. I feriti poi sono più di 60.000 nel solo Sichuan, la regione più duramente colpita. 15.000 dei quali in condizioni definite gravi dai sanitari. E questo nonostante la gigantesca operazione di soccorso messa in piedi dal governo.